Task Force contro la vendita abusiva per rastrata di prodotti ittici. Ieri mattina 25 militari delle Capitanerie di Porto di Licata, Porto Empedoclesciac hanno setacciato il territorio usando la mano pesante con numerose sanzioni elevate. Gli uomini della Guardia Costiera, nell'espletamento del loro servizio, si sono avvalsi anche dell'ausilio di una gazzella della compagnia carabinieri di via Salvio d'Acquisto e di due volanti di Polizia Municipale del Comando di Piazza dell'Ibbia messe a disposizione dal commissario cittadino Giovanna Incorvaia. Notevoli i risultati del blizz che non ha risparmiato nessuna parte della città. In totale sono stati sequestrati ben 40 kg di pesce che dopo un esame effettuato dal servizio veterinario sono stati destinati al macero perché risultati non idonei al consumo umano. Contestualmente sono state poste sotto sequestro anche due motoape che in seguito a un controllo effettuato dalla Polizia Municipale sono risultate sprovviste di copertura assicurativa e non in regola con la revisione. In questo caso ai proprietari sono state combinate anche sanzioni relative al codice della strada. 6 in generale verbali elevati con sanzioni amministrative per un totale di 6.334 euro. All'emissione delle contravvenzioni si è arrivate dopo il riscontro di inadembienze in termini di etichettatura, tracciabilità e cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici esposti per la strada per la successiva vendita. Dopo i sequesti eseguiti sul posto le persone multate, i mezzi e il pescato sono stati portati in capitaneria. L'azione di guardia costiera, carabinieri e polizia municipale si è sviluppata praticamente su tutto il territorio cittadino. Gli uomini impegnati nel blizza hanno agito in contemporanea al fine di evitare eventuali fughe di notizia e allontanamenti da parte dei venditori.